Una giornata molto importante che ricordate è una celebrazione fondamentale per l'arma e che cosa appunto vi è rimasto di questa santa? Oggi noi celebriamo la nostra patrona, la patrona dell'arma dei Carabinieri, l'arma di Fano come tradizione la festeggia al Duomo e quest'anno a San Paterniano. Per noi è un momento in cui ci apriamo alla città, quindi abbiamo il piacere di avere ospiti i sindaci delle vallate, le autorità locali, i cittadini e questa è una grandissima dimostrazione di vicinanza da parte delle autorità, dei cittadini a quella che è la nostra istituzione. Ricordate anche un anniversario, quello del 77esimo reggimento fondamentale per l'arma? Sì, è anche la commemorazione di un fatto cruento di guerra, è solo il primo di tantissimi altri fatti cruenti che ci ha visto protagonisti durante le guerre, durante la liberazione, durante la lotta alle brigate rosse, alla mafia. Il nostro tributo di sangue in 200 anni di storia è stato veramente molto importante. Perchè abbia pietà anche di noi peccatori. Grazie.